Grazie a tutti. 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 Poi la posizione nel gomone vi dovete sedere con le vostre chiappe sulla strescia nera sul tubolare laterale del gomone. Perfetto. Poi, guardate, non così, come una stecca da occhi, ma così. Poi, su ogni gomone vediamo una guida di dietro, sulla strescia nera dietro. Noi qui però non siamo come i godoglieri a Venezia, noi oggi non siamo a guarda l'alto e non facciamo un giro e ce ne vanno, no? Noi oggi dobbiamo lavorare un po' anche, voi dovete allenare e quindi noi vi diamo un paio di domandi. Comando più, comando più usato, non preoccupatevi, non dovete pagare per un'ora e mezzo, quindi abbiamo il comando stop. sto a pulire, sto a pulire, pagare fuori dall'acqua, più le vostre gambe, e vi potete ripotare o la poteva. Prossimo comando, tutti all'indietro! Prossimo comando, tutti all'interno! 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 Prossimo comando, tutti all'interno!